Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Saranno 569 i seggi allestiti in campania per le primarie del Partito Democratico che si svolgeranno domani, domenica 3 marzo, dalle ore 8 alle ore 20. Oltre ai 2000 volontari, tra presidenti e scrutatori, saranno impegnati per garantire il regolare svolgimento della consultazione. Potranno votare per l'elezione del segretario e dell'Assemblea nazionale e regionale del Partito Democratico tutti i cittadini che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del PD e di sostenerlo alle prossime elezioni. Per votare sarà necessario esibire il documento di riconoscimento e la tessera elettorale. I non iscritti al PD dovranno pagare un contributo simbolico di 2 euro, mentre gli iscritti non saranno tenuti a farlo. Gli elettori riceveranno due schede, una per il congresso nazionale e l'altra per quello regionale, sulla quale troveranno i nomi dei tre candidati alla segreteria che hanno ottenuto più voti alla convenzione. Votando il candidato segretario si sceglierà anche la lista a lui collegata per eleggere i delegati che entreranno a far parte dell'Assemblea nazionale e regionale. Per la segreteria nazionale si sfidano Roberto Giacchetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. Per il regionale sono in campo Leo Annunziata, Umberto del Basso De Caro e Armida Filippelli. In provincia di Avellino saranno 123 i seggi allestiti per le primarie. Ad Avellino si voterà presso il circolo della stampa, i locali del centro sociale della misericordia e della bocciofila, oltre al seggio speciale istituito presso la sede di via Tagliamento. Circa 500 persone impegnate per le operazioni. Il presidente della Commissione Provinciale Fabio Galetta ringrazia quanti in queste ore hanno dato vita alla struttura organizzativa e ai funzionari che notte e giorno si stanno impegnando perché tutto si svolga al meglio. I risultati del voto ad Avellino sono attesi nella tarda serata di domani. Auspichiamo una giornata di partecipazione che rilanci il partito, così Galetta interpellato da Prima TV Tele Nostra. In Irpini agli iscritti sono circa 4.500, l'obiettivo non dichiarato è raggiungere almeno i 10.000 votanti.